E' il momento del sigillo d'arte, è il momento di Pinto Ricchio e di una mostra che dovete assolutamente venire a vedere. E se è il momento d'arte, è il momento di Francesco Leone. Siamo su piazza 4 Novembre, l'orgoglio della città di Perugia, la piazza che ospita la celeberrima fontana di Giovanni e Nicola Pisano, uno degli esempi più alti di scultura medievale realizzata intorno al 1270. Proprio di fronte alla fontana dei Pisano si trova il Palazzo dei Priori, palazzo costruito tra la fine del 200 e gli inizi del 300 e che oggi ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria, una delle gallerie più grandi e significative dell'intera Italia centrale. Oggi, dopo il grande riallestimento che si è concluso nel dicembre del 2006, la galleria dedica una grande mostra a Pinto Ricchio, l'artista più significativo dell'intero 400 Umbro. E' qui che inizio la vicenda pittorica di Pinto Ricchio. Siamo nel 1473, in un momento estremamente significativo per la storia della cultura e delle arti figurative a Perugia, in un momento di grande passaggio che porta moltissimi artisti a spostarsi dalla Toscana, da Siena in particolare verso Urbino dove stanno sperimentando delle novità inusitate in ambito figurativo, molti degli artisti in questo passaggio si fermano in territorio Umbro e in particolar modo a Perugia. Nel 1473 le tavolette per l'oratorio di San Bernardino segnano il momento più alto di questa svolta figurativa in ambito Umbro. E qui il divin pittore Perugino, sempre osannato, nasce insieme a Pinto Ricchio, definito così con spregio neanche malcelato. Entrambi avrebbero avuto una carriera pittorica straordinaria, Perugino verso Firenze, Pinto Ricchio sarebbe divenuto il pittore dei papi, di Papa Alessandro Borgia in particolar modo. La sua gloria pittorica si sarebbe avuta però con gli inizi del Cinquecento, la pala di Santa Maria dei Fossi che abbiamo appunto nella mostra qui di Pinto Ricchio. Entrambi due carriere straordinarie, ma quella di Pinto Ricchio, nonostante il grande successo, sarebbe finita in malo modo. Solo, triste, finanche abbandonato dalla moglie, si sarebbe spento in un freddo mese di dicembre. Grazie. 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 Grazie.